Sul traguardo di Bellante vince il più forte di tutti, la Tirreno Adriatico al termine di una tappa stupenda in Corona, Tadej Pogacar. Nell'ultimo chilometro l'azione decisiva del corridore che qualche giorno fa aveva dominato le strade bianche. Bene, benissimo Giulio Ciccone che è stato proprio sempre alla ruota di Tadej Pogacar, poi ha chiuso al quinto posto. E' stata una giornata molto molto difficile, i miei compagni hanno tenuto sotto controllo la situazione per la squadra, è stata una giornata fantastica, abbiamo vinto anche la Pariginizza. Vincere è stato facile per te? No, non è mai facile, siamo andati a tutta e l'ultima salita era difficile. Domenico, quest'anno hai anche un marchio abruzzese, uno sponsor abruzzese, oggi ci tenevi a far bene appuntamento al block house? Sì, oggi io comunque ci tengo tanto poi a ringraziare il patrone shot di Infantini, quindi oggi ho cercato di fare il meglio, comunque era un arrivo esplosivo, ho cercato soprattutto di stare davanti e sì, in effetti la tappa del block house è una di quelle al giro mi piacciono di più. Il grande ciclismo, torni in Abruzzo, Cataldo, tappa spettacolare. Sì, qui in queste zone sono sempre veramente bellissime tappe, i percorsi davvero danno sempre spettacolo. Poi si è corso in modo veramente aggressivo su questo circuito, sapevamo che sarebbe stato un circuito veloce, però è stato presso davvero dal primo giro a dei ritmi incredibili. Tu sei sempre molto bravo a dare degli aggettivi, mi descrivi questa tappa con un aggettivo? Ma, veloce, è stata velocissima, perché comunque nonostante sia stata impegnativa dal punto di vista altimetrico è stata veramente veloce. Sulle strade di Bellante ha vinto il più forte di tutti, Tadej Pogacar, il commento su questa tappa al direttore Stefano Allocchio e a chi la tappa l'ha pensata Luigi Di Giosia Allocchio? Ma, io come ho già accennato, era un circuito di quelli tosti e di fatti il vincitore è uno molto speciale. Quello che sta facendo adesso Pogacar era impensabile fino a tre, quattro anni fa. E' un vero cannibale anche lui come lo era Merckx, però dietro alle spalle abbiamo visto che un arrivo del Dene, della Tirreno Adriatico, non è facile da vedere, perché da Evenerpool ha lo stesso Ganna che ha tenuto, il Ciccone, insomma, un bel arrivo. Luigi Di Giosia, contento quando? Montissimo, un ringraziamento a RCS, a Stefano, è veramente il massimo del massimo, con Pogacar che vince, quindi siamo le stelle. Qua e ti venirei, state in Pogacar!